ornella vanoni l'iconica cantante italiana ha recentemente annunciato di aver compiuto 90 anni una pietra miliare che pochi raggiungono ma per la vanoni l'età è solo un numero irradia un'energia giovanile che smentisce i suoi anni il suo spirito rimane vibrante e accattivante come sempre il percorso di ornella è una testimonianza della forza della passione e della natura duratura dello spirito umano continua a ispirare generazioni con la sua musica e la sua incrollabile gioia di vivere il suo novantesimo compleanno non è un addio ma la celebrazione di una vita vissuta alle sue condizioni non mi sento di avere 90 anni ride la vanoni con gli occhi che le brillano la sua risata è contagiosa un riflesso della sua anima vibrante e della sua passione per la vita ed è vero il tempo può essere passato ma il suo spirito è rimasto immutato ogni performance è una testimonianza della sua dedizione e del suo amore per la musica affronta la vita con la stessa curiosità ed entusiasmo che l'hanno sempre contraddistinta la sua energia è palpabile e il suo desiderio di esplorare e imparare non si è mai affievolito la sua voce un contralto roca che ha affascinato milioni di persone porta ancora la stessa profondità emotiva ogni nota che canta è carica di emozioni raccontando storie che toccano il cuore sussurra storie d'amore e di perdita di momenti dolci e amari che ha vissuto e che ha visto negli occhi degli altri di gioia e di dolore che risuonano con una profondità che deriva solo dal tempo e dall'esperienza ogni esibizione è un viaggio emotivo un riflesso della sua vita ricca e variegata che risuonano con una profondità che deriva solo dal tempo e dall'esperienza la sua musica è un ponte tra generazioni un legame che unisce passato e presente lo spirito giovane dell'avanoni è un'ispirazione che ci ricorda che l'età non è un ostacolo al vivere la vita al massimo la sua vita è una celebrazione della resilienza e della passione un esempio luminoso di come l'arte possa trascendere il tempo il novantesimo compleanno dell'avanoni è anche un momento per riflettere sulla sua straordinaria carriera una carriera resa possibile dal sostegno incrollabile dei suoi fan siete la mia famiglia dice con la voce rotta dall'emozione il vostro amore è stato il mio compagno costante ricorda ogni concerto ogni incontro ogni nota di apprezzamento il loro amore ha alimentato la sua passione spingendola ad evolversi e a crescere costantemente come artista è un legame costruito sul rispetto e sull'ammirazione reciproci una testimonianza del potere della musica di connettere le anime per festeggiare i suoi 90 anni l'avanoni ha sorpreso i suoi fan con un nuovo album ma non si tratta di una nostalgica riedizione del passato è una dichiarazione audace intrisa di sonorità moderne e arrangiamenti contemporanei è la dimostrazione della sua volontà di sperimentare di abbracciare il nuovo onorando il passato l'album presenta collaborazioni con artisti più giovani a dimostrazione della sua apertura verso diversi stili musicali questa capacità di adattamento ed evoluzione ha contraddistinto la sua carriera facendo sì che la sua musica sia rimasta attuale e coinvolgente per diverse generazioni ornella vanoni è una donna dalle mille sfaccettature la sua carriera è un viaggio straordinario che abbraccia decenni di musica cinema e televisione è una cantante sì ma anche un'attrice un personaggio televisivo e un'icona la sua voce unica e il suo stile inconfondibile l'hanno resa una delle figure più amate e rispettate nel panorama artistico italiano la sua vita è stata un arazzo tessuto con fili d'amore di perdita di trionfo e di resilienza ogni esperienza ogni emozione ha contribuito a creare la donna straordinaria che conosciamo oggi in tutto questo è rimasta fedele a se stessa non tirandosi mai indietro dall'esprimere le proprie emozioni la sua autenticità è ciò che la rende così speciale e vicina al cuore del suo pubblico è una forza della natura un turbine di energia e di passione la sua presenza scenica è magnetica capace di catturare l'attenzione e l'immaginazione di chiunque la guardi la sua risata è contagiosa le sue lacrime genuine il suo spirito indomito ogni sua esibizione è un viaggio emotivo un'esperienza che lascia un segno indelebile è un monito che la vita è un dono prezioso da accogliere a braccia aperte e con un cuore impavido ornella ci insegna che vivere a pieno significa abbracciare ogni momento con coraggio e passione senza mai perdere la propria essenza la vita della vanoni si è svolta sotto i riflettori le sue gioie e i suoi dolori sono stati condivisi con milioni di persone ha messo a nudo la sua anima attraverso la sua musica permettendoci di assistere all'evoluzione di una donna di un artista di un'icona la sua vulnerabilità è la sua forza la sua onestà la sua qualità più accattivante tra alti e bassi è rimasta un simbolo di speranza una testimonianza della forza duratura dello spirito umano ci ha insegnato l'importanza dell'autenticità dell'abbracciare le nostre vulnerabilità del vivere in un sentito video messaggio ai suoi fan gli occhi della vanoni brillano di gratitudine grazie per aver reso il mio viaggio così speciale sussurra con la voce rotta dall'emozione il vostro amore è stato il mio dono più grande le sue parole sono semplici ma profonde cariche del peso di una vita trascorsa al servizio della musica è un promemoria che dietro il glamour e la fama si cela un cuore colmo di gratitudine un'anima toccata dall'amore di milioni di persone mentre festeggia il suo novantesimo compleanno circondata dall'affetto di amici e fan l'eredità di ornella vanoni è al sicuro la sua carriera che abbraccia decenni è un testamento della sua dedizione e talento la sua musica continuerà a ispirare a consolare e a unire generazioni diverse le sue canzoni ci trasportano in mondi familiari e sconosciuti evocando emozioni profonde e ricordi preziosi la sua voce strumento attemporale di emozioni è un faro di luce nel panorama musicale e che gerà per sempre nei corridoi della musica italiana influenzando artisti e appassionati per le generazioni avvenire ma al di là dei premi e dei riconoscimenti che sono numerosi e meritati è la donna stessa che verrà ricordata la sua autenticità il suo coraggio e la sua passione per la vita sono ciò che la rende indimenticabile la donna che ha osato sognare che ha sfidato le convenzioni che ha amato con ardore e che ha vissuto ogni momento con intensità ha vissuto la vita alle sue condizioni senza mai scendere a compromessi con i suoi valori è di ispirazione per tutti noi un esempio di come vivere autenticamente un monito che l'età non è un ostacolo al vivere una vita piena di passione e di scopo la sua storia ci insegna che ogni giorno è un'opportunità per creare amare e ispirare buon novantesimo compleanno ornella vanoni che il tuo spirito continui a splendere luminoso illuminando il mondo con il tuo talento la tua grazia e la tua incrollabile gioia di vivere grazie per la musica i ricordi e l'ispirazione sei una vera icona e la tua eredità continuerà a ispirare le generazioni a venire